ottimo non ci credo 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 la gattina 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 Bro No non ce la faccio io Questa è da midrange Che bello però E ti seguo Io inizio Au Cosa Boh a me mi sembra abbia fatto Tre mana Tre tre Ok non è lo stesso mazzo Meno male C'ha i ratti Vabbè Questa è figa Ok Ok ho provato finora Fatine Monred assurdo Un red è incredibile Ok Witch Vanity è interessante E 3 mana 3-3 bimbi Non mi convince Non mi convince Non mi convince Non mi vuole convincere Non mi convince Non mi convince ragazzi Non mi convince La nuova fable verde Tio madonna La nuova fable verde Boh Vero ragno è fortissimo Uscita ora E ti segui Alla Victor Ragno è nuova È di Wilds of Brothers War Bro Quanto meme vuoi fare La vita Sì È ripartito tanto bene Ah Ora si sacrifica Topo E mi caca E mi caca nel Si sacca Topo O ti cappa Col valletto Ti capi Ti capi Testina Eh Bauscia Ti capi Fai numerone Fai numerone Testina Numero incredibili Tanto è forte l'archivist Molto forte No dai scherzo È forte Solo Solo non è stato Necessario Ti capi Archivist ha dominato Sì UK We are frogs Ok Ok Chi Rispetta l'archivista Mi piace Metto ci Cose Ok Ok Ha fatto Cazzillo Io faccio Picuro È bella L'artwork Madonna Succa Questo è fortissimo Via 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 Guardi dopo Spacco Entrambi Sti Cazzi Sti Cazzi C'ho la Virtù Della Loyalezza La Virtù Che Pass 2 6 backup 3 Aid 2 Audi 3 Deje la Op Via 2 Prime Pic 4 6 7 6 Mi piace, eh, la virtù Mi piace Mi piace C'è chi piace Guarda, l'archivista è già oppi a merda Oh no, ha fatto tot È iniziatp È iniziatp la peri nerd Ok È iniziatp la copia Fai con la figu Queste in druid Attacco con un ottimo Tarmogoyle Attenzione, la carta preferita di Maffi Dopo quella di credito È gruos il bunnigorno Cosa? Il mazzonigli Cosa? Ma questo ha fatto il mazzonigli Cosa? Il mazzonigli Cosa? Bro Bro Non ti devi di permettere di fare questa cosa, tu Perché devo spaccare il miglior Ci deve buttare tipo tutta la bordo o sbaglio? Infatti c'è un po' l'occhicchia Attacchi Bimbi Io ci vedo lungo sulle figu Era forte lui Ma si vedeva, era forte Devo mettere qualche incantesimo anche Tipo Fable of Mirror Break No, non lo so Che incantesimo ci posso mettere? Che abbia effettivamente un senso però Virciurossa Sì come no Eh L'incantesimo uno di scarte è forte però se lo sacchi Non ho modo di saccarmelo Solo il botto Oddio il botto Ho il botto Ho fatto un errore gravissimo Grazie a te Un removal bro Grazie per i tre mesi Un removal Grazie per i tre mesi Grazie per i tre mesi Questa era una ASMR inaudible Indra è iniziato il mese per caso Grazie a te Grazie a te Grazie Indra per questo notevole spinto al trenino Grande mille Grazie Grande mille Grazie Indra Grazie a te Il supporto al canale è sempre Oh finalmente Sempre Ineccepibile Io però Devo chiudere qua Lo sbato Devo Questo è meglio Questo è meglio 1-2-3-4 1-2-3-4 Pip Fai draft o si Draft 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 Keep C'è un motivo perché ho fatto cottage Che dopo posso fare tarra tappata Wormlet Azz Sai che scarto il torcio Esatto Fatine l'ho provato E purtroppo best of one è limitante Fatine secondo me è molto forte in standard Ma devi avere una sideboard Qui Fa un po' cacca culo piscio melda Sbaglio il prossimo turno Iniziamo ad attaccare con un 4-4 Che mi dà il food L'altro E quindi io lo mangio con anvil No Scherzavo Dal prossimo Eh loro triggerano Dodrick Adesso Madonna è il king Madonna è il king E forte anche il Rakdos Ragazzi Non c'è niente da fare Il king E il king è imprescindibile E il king è invincibile Ragazzi Come lo batti il king? Come fai a battere il king ragazzi? Il king è la carta più forte di magic Guardalo Così bello e irriverente Così conscio Della sua facoltà di essere sexy E' amber king Lui è vero Godric Godric È godric Oh Quasi eccessivo ti dirò Nemmeno fosse così Necessaria Non è più le gain Non è più le gain Ora in che senso Perdonami Che senso Perdonami Non ho capito Se intendi Non è più le gain Per me fa anche quello E Anvil Eifud Va tolto Godzill È molto forte Attaccare ogni turno Di cottage È proprio Un botto forte Cottage O Cottage Però non c'è l'ora in chat Quindi Mi manca un po' l'ora Ora che lavora E poi va all'estero E poi fa tutte le cose Flore che mi riprende Sulle pronunce sbagliate Ma sappiate Che anche se Ha lavorato Quest'estate E anche se ora È all'estero E torna tra un pochino Sta preparando La Lord Di Wilds of Eldraine Che come vi ho detto Subirà un cambio Di stile Di format Diventa Midrange Esatto Diventa Midrange Quanto ci shoppo Su sto set Zero Punto schiamativo Guided La gioca di free to play E Carriatina Dal cottage Mi sa che ne metto Due Ne posso permettere Due Fa fortina Mi sa che ne metto 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 Shibobbe È morto Però interessante anche Rakdos Godric Che si attiva ad ogni Arvester fondamentalmente Sti cazzi Cazzo te ne fregno La voglio vincere di cottage Mi piace menare con le case Boia se è forte sta manland va Puttana la merda Forse me le posso permettere due Di più no perché tappate è pesante La curva è bassa però due Secondo me sì Ok Tenibile Parte calma ma parte ignoranza Insomma Indra è un po' diverso Perché se la peschi in Erli Ti blocca tanto La curva a Godo Famosa curva a Godo È questa Sì ma è una terra ragazzi È una terra Bello Lo vedo perché dovrei saldare bambi Ah ma lui è il famoso mazzo Dagliero ma dagli E' lui vero Ma mi spiegate perché ogni persona che entra in chat mi crede il calderone Che è successo Cosa hanno fatto sto cazzo di calderone Che combo assurda e allucinante c'è Che io non sto vedendo Io vedo solo che l'archivista è più grosso del termogoy What Ok Vabbè mi ridai il Gino È che è risolto sto cazzo Boh vabbè Perché il calderone è forte sì però Non sto capendo Cioè è forte È una carta che fa un sacco di cose in continuo Ma dov'è la combo È quello che mi manca In modern sì Ma in standard Cioè io non sto ancora aspettando a fasto boseggio Perché ancora non ho capito Come dovrebbe stravince Cioè eviterai di dargli la quarta terra No Nel frattempo io ho il termogoyfe dello standard Ragazzi questo è il termogoyfe dello standard È fortissimo Aspetta a vincere Vediamo che vuole fare Ma io sto dimostrando cosa voglio fare io Nello standard Termogoyfe Più grosso Più stabile 6-7 così Cioè Scusa eh 2 mana 8-9 Sbaglio Fortissimo Ho indovinato di nuovo tutta la top 10 Impossibile sbagliare Del model mini Mi manca soltanto un incantesimo Da Forte da mettere in questo mazzo Un incantesimo che serva con il mazzo O play's nightmare Non mi serve un cazzo ragazzi Non mi serve a niente purtroppo Per quanto io lo ami Non mi serve O play's nightmare Servirebbe un incantesimo Che fatte fatti Him Lo so Che c'è anche Iotia Lo so Ma anche voi Ma questo è removal E poi artefatto È meglio di artefatto E poi removal Se ci beance Se ci beance Oh C'è nessuno Finiti Ah è rematch Cronica medievalis Cazzi dentro i palis Grazie per il prime Io Mi permetto Di giocare Anvil Mi scusi Mi permetto Mi scusi Dove è il thermogoyf È Adele In questo avatar ragazzi Letteralmente Adele È uguale È Adele Ma se vai Trey Scusate Non lo devo fare Vabbè Il mazzo più potente Della storia Del mondo Triggerato lui Triggerato Triggerato Ma lui È uno youtuber E c'è scritto Vinta Le tre carte Più forti Della storia di magic Ragazzi Bimbi Trovato Da so giocare In standard Questo mazzo È Uno mythic Troppo facile Ma è uno youtuber Bip Incredibile Io ti amo Sono Io ti amo Il dissidente Daval cavolo Il mio robot Nelle lande di Gozoble Finché non ho incontrato lei Lei che mi ha fatto perdere La retta via Lei che ha prosciugato Tutte le mie finanze Il mio tempo Lei Marvel Snap No Scusate Mi sa che lo faccio Mi sa che è worth Guardi Ma hai visto l'interazione Tra l'ier E le avventure Sì Tre anni fa Circa Coperta adesso Benvenuto Benvenuto nel Nel mazzo Avventure Di Eldraine 1 Vi dà di snap Quando me la sento Per ora no Ok immagina farlo in un mazzo Con Clover E Omnath Bene Era lo standard Vero che ha detto Mamma che tappi Screlv Bastas Bastasù e caino Da posto Forse di Avventure Per l'avventure Io sono Doomwake e Coco. Conquisito, secondo standard di Magic oggi, sia Arena e Cartagena, sono stati nella Carbonara, ci va il concià. Ah, non mi interessa. Sai, tendo a non fare pubblicità agli altri nelle mie live, non so se... Non so, magari un giorno un mod te lo dice, maffi. Ho dei moderatori atipici. Gli altri su Twitch hanno i moderatori che fanno... Ogni volta che entra qualcuno nuovo, scrivono... Ciao, benvenuto! Sai che puoi entrare nel Telegram e così... Beh, seguite, mi raccomando, la programmazione e così... I miei moderatori. Ehi, altro streamer ha fatto questo, andiamolo a vedere. Ognuno ha quel che si merita, penso. Mi sa che devo spaccare lui, vero? Sì. Sì, alla fine è amore e odio. No, non è vero, è amore totale. No, posso dire una cosa, ma non la devi prendere male. Te dovresti essere VIP. Cioè, ormai sei mod. Perché non moderi niente. Fai un sacco di cose. Però non moderi nulla. Tu dovresti essere VIP, tecnicamente. Però no, dai, sei troppo dentro. No, puoi partecipare alle decisioni interne. No, no, sei mod, sei mod. Però fa ridere stavolta. TuffCookie. Bello. Allora, se TuffCookie è giocabile, io sono contento. Fine. Non altro da dire. No, no, cazzate a parte. Maffi parte. Cioè, voi non lo vedete, ma nel gruppo dei moderatori si parla spesso delle cose interne del canale, di cosa fare, cosa non fare, come, chiedo consigli. È un consiglio il gruppo dei moderatori. E Maffi è necessario. È attivissimo, è necessario. Poi in chat fa il cazzo che gli pare, però... Effettivamente a livello decisionale del canale è molto attivo. È molto attivo. C'è il ristretto. C'è molto ristretto. È vero, su Telegram sei molto attivo. È un consiglio che praticamente... Questo è il Tomino. Oh, bro, meno, meno. Mod The Gathering. Moderatori li conosci fisicamente? Sì, un paio l'ho trombati. Non avevo pensato di tagliare fuori i maffi e tagliare solo i baffi? Effettivamente potrebbe risolvere un po' di problemi, no? Qui ho perso, comunque. Tipo, pango mi ci rivedo anche domenica per far pre-list. Nel canale YouTube ti è occupato del mazzonazzo o del mazzonazzo nella scala? Ma anche l'uscita della nuova espansione sarebbe comunque utile per grindare? Certo. Ruota! Ora Alchemy, occhio. Che Alchemy ruota adesso. Quindi bisogna vedere cosa si perde. Non ricordo cosa perdono quei mazzi dal punto di vista della rotazione. Penso un po' di roba. Tipo Sheholdred. Ruota Sheholdred. No? Le terre perdono. Bello il sasso. Mi piace. Perdiamo i tre omi, che è grossa. Five Sheholdred. Palla. Sushi forte. Oppo, faffo. Oppo, ha fatto il faffo. Cosa fa il faffo? Rampa uno e poi, se vuole, diventa un equipaggiamento più 3 più 3 per i leggende. Che sasso è figo, l'ho sempre detto anch'io, eh. Tipo, se a me va uno per in tutti i midrange. Poi sarò scemo. I midrange, questi non sono midrange. What? A me va uno per inattore. infatti letteralmente bontu no? qui surgo sarebbe stato meglio di torcia si parecchio vabbè la voglio provare poi magari è meglio sorge però la voglio provare è lo scray 1 che mi stuzzica e l'esilio anche vabbè oppo attacca quindi nessun problema tutti i 4 di culo è l'esilio è l'esilio Godo Ok qui è OP Torch Perché toglie l'effetto a A sushi Quindi qui ha vinto Torch Oh ragazzi si può fare 2-2 Sbaglio Due Torch e due Surge Poi esiste la sideboard ragazzi Esiste la sideboard Oh Dio Gigante Me lo tira Me lo tira Me lo tira Me lo tira Ok me l'ha tirato lì Qui sto Ho paura e mi arrivi una Trax Da un momento all'altro Però Ok 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 Io sono convintissimo Sull'archivista ragazzi Proprio tanto Raga ma va infinito Porca madonna Oppure scooking Davvero Io devo togliere il VAT Proprio tanto Grazie a tutti Raga l'esilio è fondamentale Vedete bene Torce l'ha salvata Altro che Torce l'ha salvata Potreva chiudere Tirava se stesso Faceva le robe Torce l'ha salvata Pochi cazzi È forte Non ci voglio credere Oppo ha giocato Quattro carte Cinque Quattro Grazie. Non capisco perché non lo fa. Ho vinto sempre, mi invece ho anche il cottage. Dobbiamo vedere ora cosa fa, che lui ha. Allora, se tira il 5-4, mi spacca il 4-5. Esatto, non l'avevo vinto sempre. Bimbi, sì, mi sono divertito e... Poco da dire. Questo è un mazzo vero. Questo è assolutamente un mazzo vero. Fuori di testa, bellissimo. Archivist è una carta... Archivist è una carta forte, 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 quasi. Secondo me anche da historic. Per me anche da historic. Questo è forte, vero? Puttana la merda. Bello, 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 bello. Ci ho visto lungo e sono contento.